Con uno striscione esposto sulla facciata di Palazzo San Giacomo, il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, insieme alla famiglia ed una delegazione di Greenpeace, chiede la liberazione di Cristian D'Alessandro. Da più di un mese il giovane attivista napoletano accusato di pirateria è stato arrestato dalle autorità russe con altri 29 volontari dell'Associazione Ambientalista per aver manifestato contro la presenza di una piattaforma petrolifera di Gazprom nell'Artico. Noi sin dal primo momento ci siamo mobilitati con forza per la liberazione di Cristian D'Alessandro e di tutti gli altri attivisti di Greenpeace. Ovviamente per noi Cristian è uno di noi, è un napoletano, condividiamo le sue idee, le sue battaglie, è una famiglia per bene e quindi esponiamo questo striscione nel Palazzo della Città che sarà tolto solo quando, ci auguriamo a brevissimo, Cristian verrà liberato perché non si può stare in carcere per le idee. Quindi è una battaglia di civiltà, sono non violenti, meritano rispetto, tutelano e rispetto ovviamente di quelle che sono le prerogative degli Stati del mondo. Ma credo che si stanno facendo dei passi anche diplomatici importanti e speriamo che presto si risolva questa questione.